Benvenuti all'edizione di Quilicata Tg di oggi 8 settembre 2023. In apertura di giornale una bella notizia. Un gruppo numeroso di australiani è arrivato a Licata per rendere omaggio a Rosa Balistreri. A guidarli è l'Istituto di Cultura Sicilia Australia. Oggi sono stati accolti dall'amministrazione comunale al comune. Li abbiamo intervistati. Siamo venuti qui proprio per celebrare la vita e la cultura di Rosa Balistreri. Da noi in Australia Rosa Balistreri è un'icona della sicilianità, è un'icona della lotta dei siciliani, contro le avversità della vita. La sua povertà, il suo dolore, il suo amore per la vita sono un simbolo a tutti gli italiani che hanno emigrato, che hanno lasciato la loro terra. Per cui hanno un ricordo, li riporta in Sicilia. Allora i signori che abbiamo noi con noi sono quasi tutti australiani, hanno conosciuto il canto di Rosa Balistrieri, sono rimasti toccati dalla forza, dall'intensità delle emozioni. Io prevalentemente vivo in Sicilia e la signora prevalentemente vive in Australia. E noi siamo come due piloni di un grande ponte che quasi giornalmente si intendono per far progredire questo dialogo e questa bellissima esperienza di scambio culturale. Abbiamo tante iniziative e da oggi in poi coinvolgeranno anche Licata, l'amministrazione di Licata. Per gli amministratori del comune che hanno accolto gli australiani insieme alla Proloco e al dottor Nicolò Laperna, profondo conoscitore di Rosa Balistreri, l'idea è quella di creare un ponte tra Licata e l'Australia, nel nome di Rosa. Vediamo le interviste. Loro ci danno una grande opportunità, quella di far toccare con mano i nostri concittadini il valore di quello che noi siamo e quello che abbiamo, il valore delle nostre tradizioni, il valore della nostra storia, il valore della nostra territorialità e di quello che noi possiamo essere rispetto a chi ci guarda da fuori. Noi dobbiamo mettere in bellezza tutto quello che la natura ci ha regalato e tutta quella che la nostra storia ha vissuta. Allora, Rosa Balistreri è un patrimonio che noi dobbiamo valorizzare e tutelare. Ieri sera ha una grande emozione perché durante un evento organizzato presso la Putia di Melvizi, che ringraziamo per aver partecipato attivamente anche lui a questa tre giorni, i signori hanno intonato delle canzoni di Rosa Balistreri con un accento licatese da inviglia e quindi non mi resta che ringraziarli e iniziando da qui questo percorso che ci porterà, penso, a grandi cose, a grandi progetti. Rosa Balistreri è la nostra arma culturale più grande. Anche in vista di Agrigento, Città della Cultura 2025, abbiamo intenzione di fare un percorso di avvicinamento al centenario di Rosa che sarà nel 2027 proprio per affermare l'immagine di Rosa Balistreri e l'immagine di Licata. Cambiamo argomento. La polizia indaga sull'intimidazione nei confronti del titolare di un negozio di autoricambi a Licata. Davanti all'esercizio l'uomo ha trovato una bottiglia di plastica contenente due litri di benzina. Gli agenti e la scientifica hanno eseguito il sopralluogo sul posto ed avviato le indagini. Tutto pronto per celebrare i cento anni delle suore morinelliane. Domani pomeriggio in via Palma a Licata sarà l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ad inaugurare l'anno giubilare. Sarà aperta la cittadella del sole. Vediamo il servizio. In via Palma a Licata è tutto pronto per il momento più atteso dell'anno. Domani alle 17.30 sarà l'arcivescovo metropolita di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano celebrando la liturgia a inaugurare l'anno giubilare delle suore morinelliane per festeggiare i cento anni della congregazione fondata dal canonico Vincenzo Morinello. La Santa Messa è in programma per le 17.30. Dal 9 settembre, quindi da domani e fino al mese di dicembre 2024, quanti visiteranno la cappella delle suore dei poveri di Don Morinello riceveranno l'indulgenza plenaria concessa dal Santo Padre Francesco in occasione del giubileo. La cappella custodisce le spoglie del fondatore Don Morinello. Ma il 9 settembre sarà giorno di festa anche per un'altra importante ragione. Verrà inaugurata la cittadella del sole. Ben 7.000 metri quadrati di giardino, spazi dedicati alla preghiera e alle mostre, giochi per i più piccoli, tantissimo verde. Un vero e proprio regalo per la città dedicata e per tutti coloro i quali decideranno di visitarla. Con un investimento di oltre 1.200.000 euro, il padiglione della cittadella della salute di Agrigento, che ospita le comunità terapeutiche assistite, intitolata alla memoria dei due stimati psichiatri Giannunzio Gatto e Savio Randisi, si rifà completamente il look. Lo ha annunciato l'ASP. La Regione concederà per 10 anni 2 milioni di metri cubi d'acqua all'anno allicata per irrigare i campi. Della progettazione della condotta dovranno occuparsi gli agricoltori. È stato deciso ieri nel corso di una conferenza dei servizi a Palermo. Vediamo. Tutti gli enti preposti a esercitare una funzione di controllo e decisorio hanno manifestato la loro disponibilità e abbiamo raggiunto in un verbale di concertazione dei risultati importantissimi. Prima cosa, i 2 milioni di metri cubi d'acqua disponibili per la piana delicata sono stati spostati dal 31-12-2023 al 2033. Quindi per i prossimi 10 anni avremo diritto ad attingere questi 2 milioni di metri cubi d'acqua. Abbiamo raggiunto l'accordo che il Consorzio passa da Gela 5 ad Ag3 perché non possiamo essere vincolati all'inesistenza della diga del Gibesi alla quale siamo rimasti ugualmente collegati perché questa autorizzazione che noi abbiamo avuto, questa concessione che sarà rilasciata in avanti non esclude la possibilità che una volta entrata al regime la diga del Gibesi l'Icata avrà diritto di prendere a piene mani tutta l'acqua del diga del Gibesi o quella che sarà possibile. Qual è il punto focale oggi che ci interessa? Abbiamo raggiunto un accordo con la Regione Sicilia con il quale noi come territorio, i nostri agricoltori si prendono carico di realizzare un progetto cantierabile da cedere gratuitamente alla Regione Sicilia. Io sono molto fiducioso perché i nostri agricoltori sono volenterosi e sicuramente non si faranno scappare questa occasione. Ora c'è di fare la progettazione. Di questo sono sicuro che andremo avanti quindi il Consorzio farà questa progettazione per poi proseguire con i lavori di realizzazione della condotta. Si intitola Dell'Aurora, il Gala Mariano, concerto tenuto ieri sera nell'oratorio della parrocchia Santa Barbara di Licata. Sul palco musicisti, tanti elementi del coro ed attori. Le immagini del servizio che segue si riferiscono alle prove pre-concerto. Vediamo. Dell'Aurora Io l'ho battezzato un Gala Mariano perché è una serata di gala dedicata alla Madonna. Quindi un insieme di musica, canto, recitazione, quindi prosa, poesia e preghiera. Potrei dire anche preghiera, assolutamente sì. Il tutto dedicato alla Vergine Maria. Mi trovo per la seconda volta a presentare questa iniziativa che già da Grigento ho avuto un riscontro di pubblico bellissimo e di emozioni straordinarie perché comunque pregare, cantare, fare letteratura religiosa e musica non è facile. Pippo Calandrino è riuscito molto bene in tutto questo, in un mix equilibrato e molto elegante che ci porta a riflettere su questa straordinaria figura che è Maria. Credo che in questo tempo di crisi, perché viviamo un profondo tempo di crisi, questo evento possa aiutarci a mettere al centro della nostra vita ancora Dio. Perché ogni evento, ogni momento liturgico, paraliturgico è importante per noi. abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno che la nostra esistenza sia riabitata da Dio. E una donna, e una donna Maria può aiutarci veramente perché abbiamo bisogno di una donna, abbiamo bisogno che Maria sussurri ancora a noi quello che disse ai servi nelle nozze di Cana. fate quello che egli vi dirà, cioè fate quello che il mio figlio vi dirà. Emanuela Russo, l'imprenditrice e modella originaria di Licata, che da domani rappresenterà l'Italia a Manila, nelle Filippine, partecipando al concorso Mirce's Universe, ieri ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ha indossato durante la sfilata a Venezia anche gli abiti del negozio Moda.it di Corso Umberto a Licata. Potrà essere visitata fino a domenica sera la mostra di Adriano Sambito, ospitata in via Fiorentino, di fronte al municipio di Palma di Montechiaro ed organizzata dall'Associazione Culturale Arianna, che edita il giornale periodico Peso Specifico. Ci siamo stati, vediamo. La mostra parla in generale dei miei sentimenti, logicamente. È varia, è molto varia, perché tipo i quadri parlano del periodo, diciamo, Covid, quindi la voglia di ritornare alla vita quotidiana normale, perché parlare di vita quotidiana nel periodo Covid era veramente una cosa molto difficile, anche da immaginare. Tre anni bruttissimi. I materiali utilizzati per le mie opere sono prettamente il legno di olivo, il legno di noce, la pietra calcarea e gli ultimi lavori sono fatti anche con un po' di marmo, quindi le nuove opere saranno fatte anche con il marmo. Mi ha chiamato il curatore, che è Michele Citro, e mi ha dato questa bella notizia che a Portici hanno deciso di mantenere l'opera loro e quindi sarei sposta là con grande mio orgoglio. Siamo molto contenti di questo evento, che è il primo di, speriamo, una lunga serie, e abbiamo proprio voluto iniziare quest'arte in mostra con Adriano Sambito, che oltre ad essere, peraltro, un mio amico di infanzia, è anche una realtà che, secondo me, deve essere assolutamente valorizzata, perché io dico sempre che lui è l'uomo che parla al materiale. Questa era l'ultima notizia del nostro TG, ci risentiamo alla prossima. Grazie per l'ascolto.